Ragazzi, buongiorno, buongiorno, vi presento la mia officina, la nostra officina. Quindi siamo ritornati alla prima officina. Quindi questa è la nostra officina adesso. La macchina con quale devo lavorare io, lavorare, scusatemi, è diversa. Comunque sono fatti in questa officina. Questa è Monte Carica. E' Carlos, la mia macchina. E niente ragazzi, oggi dobbiamo tagliare questa pietra. Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Carlos, come si chiama questa pietra? Ora, faccio favore. Te diverti. Te diverti. Sì Grazie a tutti. 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 Che stai facendo? Grazie a tutti. 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 Perché siamo... perché... perché? Perché? perché... perché... ... ragazzi... che abbiamo... che... che... ... 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